Amici del grande calcio, bentornati su Senza Giri di Parole, io sono Biazzacu e io sono Tazzola. Ah, mi sono fatto male. Eh, hai giocato ultimamente, forse per quello. Mi fa male la spalla. Eh, può essere che è perché hai giocato troppe partite di recente. Troppe partite, hai fatto solo un po' di corsetta prima, pure quello conta, cioè, vabbè. Ora, ragazzi, scusate, era una battuta perché l'argomento di questo video, ovviamente, è l'argomento più caldo in questo momento, a parte gli arbitri, gli infortunati, troppi infortunati in questo mondo del calcio. Che cacchio sta succedendo? I giocatori si stanno per ribellare, troppe partite, non possiamo essere sfruttati in questo modo, eccetera, eccetera, eccetera. E tutti quanti stanno cercando di capire cosa stia succedendo. Per esempio, quest'articolo, che addirittura le ha contati, ha contato la bellezza di 76 infortunati in questa serie A, dopo sette partite. 76, quindi un quinto dell'intero parco giocatori che vantano la massima serie. Poi qua dice addirittura 13 rotture del legamento crociato. 13. E anche degli infortuni muscolari che comunque si sono sempre fatti registrare. Tu come la vedi da su su questo argomento? Guarda, io ho visto... è da anni che leggo di questo tema, perché mi ha sempre interessato. E c'è stato un momento in cui, devo ammettere, quando ero più ragazzino mi sono fatto ammaliare pure io da... La scandalizzazione degli infortuni e come le partite incidessero molto sul numero di partite, naturalmente, sull'esito degli infortuni. Poi, devo dire la verità, nel corso del tempo mi sono un po' ricreduto, anche perché, come sapete bene, se seguite un po' questo canale, io ho recuperato parecchio del calcio d'epoca. Una delle cose che mi piace di più fare è cercare di recuperare le partite degli anni 80 e degli anni 90. E devo dire la verità, non ho notato che si giocasse particolarmente in minu. Peraltro l'Inghilterra sono anni che gioca una competizione in più delle altre, che è la Coppa di Lega, che è differente dalla FA Cup, poi cambia continuamente nome, quindi non so neanche come chiamarla. Se non sbaglio oggi si chiama la Carabao Cup, non vorrei dare forse ne cagnate nada a voi. Comunque, gli inglesi lo fanno da sempre, non mi sembra abbiano mai sofferto in particolare degli infortuni in più rispetto agli altri, però naturalmente è ovvio che il sovraccarico fisico, lo dicono tutti gli esperti di fisioterapia, stanno incidendo in qualche modo. Poi, come piace dire agli scienziati, come piace dire ai ricercatori, è una questione multifattoriale, quindi anche gli ultimissimi articoli che ho letto negli ultimi tempi sul tema, su siti peraltro di cui io mi fido perché fanno indagini calcistiche molto interessanti, di che vi consiglio, tipo rivista Contrasti, rivista Undici, Ultimo Uomo, Sportellate, tutti i portali che a me piacciono molto. Ho letto di interviste fatti proprio ai simi colleghi, se mi posso permettere, che trattano l'argomento e che l'hanno detto, sì c'è una bolla di sovraccarico fisico che parte a causa del fatto che ci sono molte partite, però ci sono anche dei dati contraddittori, per esempio ve ne cito uno su tutti perché poi gli articoli sono lunghissimi, quindi se uno volesse far ragionamento sarebbe esattamente come un paper scientifico. Ve ne prendo uno su tutti che è quello che ha accorpito di più, anche a me in particolare, cioè che la maggior parte di questi infortuni così tanto gravi, quindi la rottura del crociato e in generale gli infortuni al ginocchio che ti richiedono delle operazioni molto serie, una riabilitazione altrettanto importante per poter tornare in campo, oltre che a un anno intero di recupero in cui tu nel frattempo giochi ma non sei ancora tornato ai livelli di flessibilità muscolare precedenti, per l'appunto questi infortuni così tanto gravi tendono a verificarsi soprattutto nel primo quarto di stagione, perché che significa? Che questo sovraccarico fisico, se anche c'è, poi non si registra nel corso della stagione dove si dovrebbe sentire di più, vi trovate? Cioè se questi infortuni sono dovuti esclusivamente a un sovraccarico fisico dovremmo vederli soprattutto a cavallo tra marzo e maggio, che è l'ultima parte della stagione, dove i giocatori sono più stressati perché hanno alle spalle un'intera stagione calcistica alle spalle. In realtà non è così, e anzi anche il calcio femminile per una volta ci arriva in soccorso perché pare che per esempio le donne siano assolutamente martoriate da questo tipo di infortuni. Negli articoli che leggevo per esempio si citava il fatto che per una questione puramente biologica, puramente fisiologica, per cui le donne hanno una flessibilità muscolare minore che non consente loro di fare eccessivi movimenti fulminei senza rischiare troppo. E qui arriviamo poi alla fase fondamentale del discorso, cioè cos'è che sembra essere il vero motivo per cui questi giocatori crollano così tanto negli infortuni così gravi? Sì, per carità, il sovraccarico delle partite, sì, per carità, il fatto che giochino troppo specifici giocatori, ma sembra, il principale colpevole ripeto sembra, la velocità che ha assunto il calcio. Cioè siccome i giocatori oggi sono chiamati a fare improvvisamente scatti rapidissimi, cambi di direzione, costantemente per 90 minuti di gara e le partite siano intensissime, velocissime fra di loro, questo stressa particolarmente il corpo umano che non è portato a fare sempre movimenti fulminei ma è fatto, è pensato per attivarsi a tempo. Cioè noi non possiamo fare lo scatto di un guepardo, però possiamo sicuramente essere più resistenti. Ma infatti secondo me è questa la risposta, cioè la risposta più logica. Cioè alla fine, se ci fate caso, pure i giocatori che tendono ad avere questi infortuni qua pure spesso, sono proprio quelli là più veloci. Cioè il primo che mi viene in mente è proprio Ozyman. Cioè ragazzi il problema di Ozyman è che va troppo veloce. Cioè Ozyman si fa costantemente male ogni volta che fa troppi scatti consecutivi. Cioè le fibre muscolari, le fibre bianche dei velocisti sono così, non ci puoi fare niente. Cioè alla fine è come se avessero una forza talmente tanto fuori dalla norma che non può reggere, non può resistere. E quindi di conseguenza tutti i giocatori più o meno di questa nuova generazione sono così. No, non tutti raggiungono la velocità di Ozyman, però fisicamente sono tutti quanti ormai forti, cioè hanno delle cosce tante. Cioè rispetto ai giocatori di una volta che si se ne davano, wow e quante se ne davano, infatti c'erano molti più infortuni di questo tipo. Adesso ci stanno tanti giocatori che si fanno male da soli. Poi qua entriamo in un'altra problematica secondo me, cioè ormai siamo arrivati proprio dall'altra parte. Cioè ormai è diventato tiro al piattello. Ogni infortunio che capita è perché quel giocatore sta giocando troppo. Quando in realtà, cioè per esempio l'infortunio Malinoski, ma mi spiegate? Quello è stato un evento proprio sfortunatissimo che ha appoggiato male il piede e si è girato. Non ci puoi fare niente. Oppure l'infortunio di Zapata. Zapata non gioca troppo, Zapata gioca una volta a settimana col Torino. E queste infortuni sono sempre capitati e continuano a capitare. Sia nel passato che nel presente che nel futuro. Cioè ormai ogni infortunio che capita a un giocatore, tipo quello di Carvacal, ma Carvacal che ha dato praticamente un calcio a Pino. Mi spiegate che colpa ne ha il fatto che ne gioca troppo. E lui che ha colpito l'avversario e per sbaglio gli si è rotto il crociato. Oppure vogliamo ricordarci di come si è rotto il crociato per numerose volte Milik. Perché salta e atterra male. Cioè ci sono tantissime problematiche che possono affliggere un giocatore. Tantissime variabili. Quindi adesso andare tutti quanti insieme, abbracciate mani nella mano ad accusare comunque come principale problema il fatto che si giochi troppo. Mi sembra troppo, cioè una motivazione troppo superficiale. Cioè è troppo facile dire solo ed esclusivamente quello. Cioè quindi mi state dicendo con certezza che se noi giocassimo di meno si avrebbero praticamente zero infortuni. Cioè proprio meno ma molto ma molto ma molto meno infortuni. Probabilmente la risposta è forse. Nemmeno mi sentirei di dire di no che è torto. Come avete torto il mio ragionamento. Perché io ne sono certo di questa cosa. È una questione di probabilità. Cioè se io gioco di più è ovvio che mi posso fare più facilmente, più spesso male. Però qua entriamo in un altro campo. L'allenatore mica è costretto a farti giocare sempre così spesso. Cioè ormai il calcio si sta evolvendo. Carvacal per esempio che anche Rodri si è lamentato. Ma scusate ma perché devi giocare tutte le partite? Eh ma io sono un giocatore importante. Ma è una squadra e ormai si deve rendere conto che se il calcio sta andando in questa direzione devi cambiare un pochino i piani. Fratello Carro. Cioè voi volete tutta questa visibilità. Perché poi è un lavoro privilegiato. Un lavoro privilegiato dove guadagni una fracca di soldi. E no ma questo è sfruttamento. No non è sfruttamento. Semplicemente sta diventando parte del mestiere tuo. Come hai accettato tante cose. Il calciatore. Il fatto che comunque non puoi permetterti di girare per strada tranquillamente. Tante cose il calciatore ha accettato per poter fare questo mestiere. Se ne sta aggiungendo un'altra. Il fatto che comunque le televisioni e tutto il re. Lo sport è diventato così tanto importante. E si vogliono giocare sempre più partite. Che si sta andando in questa direzione. Quindi non ha senso andare contro il calcio. Il calcio sta andando di là. Tu devi seguirlo. Quindi di conseguenza devi renderti conto che. Se magari vuoi diminuire la percentuale di infortunio. Devi giocare anche di meno. Non sei costretto a giocare tutte le partite. Il tuo club deve pensare a questa cosa. Che siccome magari si dovranno giocare 70 partite. Tu hai bisogno di 3-4 centrocampisti forti. Che si possono alternare. 3-5 attaccanti che si possono alternare forti. A stessa cosa i difensori. Addirittura magari si può iniziare a fare la rotazione del portiere. Cioè il calcio sta andando in questa direzione. Perché ci dobbiamo impiantare e dire no. Come i bambini. Voglio quel calcio che c'è sempre stato. Io questo non capisco. Cioè i giocatori hanno sempre rinunciato a tantissime cose. Che possono fare le persone normali. Proprio perché sono privilegiati. Perché questa cosa infastidisce così tanto. Eh sì. Ci sarebbe da capire. Diciamo che al riguardo si sta creando anche un panico. Perché poi di per sé. Non so voi. Però se io penso ai infortuni di sovraccarico. Io penso agli affaticamenti. Non penso agli incrociati che saltano. Cioè se il problema è che giocano troppo. Allora noi dovremmo vedere sempre affaticamenti. Non dovremmo vedere i crociati che saltano. Poi anche il fatto. Tu per esempio prima hai citato molto bene Milik. Perché molto bene? Perché uno dei casi più citati in medicina sportiva. Ho saputo. La gente che mi hanno detto. Che è molto spesso un caso che viene richiamato. Perché? Perché Milik pare essersi fatto male più volte. Al crociato. Perché dopo aver recuperato dal primo infortunio. Ha cominciato a stare male di postura. È vera questa cosa io non lo so. Ma sembra aver cominciato a stare male di postura. Per evitare. Quindi con una profezia che si autoavvera. Tu cerchi di evitare di farti male al ginocchio. Per l'unissima volta. Ti fai male all'altro ginocchio. Così come si suol dire che per l'appunto. A Zanielo forse è successa la stessa cosa. Anche a Zanielo. Ma pure a Spinazzola. È successa la stessa cosa. A Giusto è Perussi. Ce ne sono tantissimi di questi casi. Ma così come. Noi dobbiamo sempre ricordare. Quello che ho detto prima. È vero che tu per tornare in campo. Ci metti 7-9 mesi. Però è anche vero che tutti i medici dicono. Sì ma poi non è che torni a pieno regime. Poi ci vuole un anno. Per tornare alla stessa flessibilità muscolare. E nel frattempo che la flessibilità muscolare. Ti ritorna. Tu sei più fragile. Quindi quelli che poi. Hanno subito l'infortunio al crociato. Proprio per evitare di andare via dal calcio. Di ritirarsi. Sono costretti ad affrontare un rischio maggiore. E ovviamente con questo poi anche i compagni. Perché la paura ragazzi. È la cosa peggiore che ci possa essere. Perché appunto. Causa delle profezie che si autoavverano. Poi è ovvio che qui. Nessuno è medico. E anche i medici. Si stanno cercando ancora di raccapezzare. Sulla questione. Ma proprio perché nessuno di noi lo sa. Non dovremmo correre. A delle conclusioni affrettate. Dovremmo cercare di capire che si deve investire nella ricerca. Che si deve cercare di combattere il problema. Nella maniera più immediata possibile. La maniera più immediata possibile al momento non è cancellare le partite. Perché ci sono contratti pluriennali che sono già stati stabiliti. Quindi non è che puoi cancellare le partite. Cosa è che puoi fare al momento? Quello che ha proposto Biazacu. Fare i cambiamenti. Durante la partita. Fare i cambiamenti nell'undici titolare. È quello che io sostengo da anni. Ma penso pure Biazacu mi sia compare in questo. Basta con queste sostituzioni limitate. Sono inutili le sostituzioni limitate. Ho il traggio. Non si può. Non si può. Poi non è più calcio. I vengono in vicino i giocatori. Ma in partita ne devo usare 14. Perché boh. Poi non è più calcio. È basket. Oltreggioso. Va bene ragazzi. Io direi che questo video può terminare qua. Fateci sapere cosa ne pensate con un commento. Lasciate un like se il video è piaciuto. Condividetelo così ci aiutate a crescere come canale. E forza Napoli sempre. Bye. Ciao.